Problemi di frane e smottamenti sulla provinciale 187 Trignina, nel Vastese, dove la provincia di Chieti ha consegnato lavori per oltre 550 mila euro alle ditte aggiudicatarie, che dovranno realizzare gli interventi programmati per risolvere gravi criticità. Nello specifico, gli interventi messi in campo riguardano la frana in località Canaloni di Lentella e lo smottamento nel territorio di Palmoli. La frana di Canaloni, che da un ventennio interessa l'area, sarà oggetto di un intervento che ha l'obiettivo di mettere in sicurezza e ripristinare le migliori condizioni di sicurezza per la transitabilità della strada provinciale 187, che collega il centro abitato di San Salvo a Carunchio, attraversando i comuni di Fresa Grandinari a Lentella e Palmoli. Gli interventi urgenti di sistemazione e consolidamento del movimento franoso sono stati consegnati alla Marinelli di San Salvo per un importo complessivo di 240 mila euro. La circolazione non verrà interrotta durante i lavori. Il secondo intervento è localizzato nel comune di Palmoli, a nord-est del paese, in località Fonte Troccotello, nei pressi della frazione Fonte La Casa, dove lo scorso anno una frana provocò il cedimento di parte della carreggiata con la conseguente chiusura al transito. L'importo complessivo dell'intervento è pari a 317 mila euro. I lavori sono stati affidati alla Moviterra di Lentella, che nei giorni scorsi ha avviato la realizzazione di un'opera strutturale di sostegno del corpo stradale, che sarà successivamente ricostruito. A completamento dell'intervento saranno realizzate le barriere di sicurezza e la segnaletica stradale. Le opere previste sono calibrate in continuità rispetto alle opere di consolidamento già esistenti nel tratto.